Oggi giocheremo un po' alla playstation con la console Marco Funzione dei tasti X salto, cerchio offesa, quadrato pugno, triangolo... cazzi, vabbè Inizia il gioco Triangolo fantasia del Super Mario Start No, first giocatore X X Nemico Quaggiato Cento punti Cento punti X è quadrato Un buon gatto Meno cento punti Totale punti zero Super Mario è un buon gatto 200 punti Super Mario è una pippa Ma che cazzo hai tasti più nooo Quadrato X è quadrato Triangolo fantasia Un buon gatto Un buon gatto Un buon gatto Offesa, cerchio Un buon gatto Il nemico si demoralizza Quadrato Quadrato Questa è la quadrato più triangolo Fantasia R1 No Che cazzo hai messo versione ballo Triangolo Il nemico è stato sconfitto, totale punti 1000 Il boss O la Super Mario deve combattere contro il boss Ix Minchia voi Oh no, ma lo vado Oh no, ma che tazzo, ma che è difficile Nemico, enemico Minchia Minchia voi Super Mario è stato sconfitto Oh no, ma fa nulla E sto giocando un malongazzo Grazie